Buongiorno a tutti. Si attende da un momento all'altro la pubblicazione del bando relativo al concorso straordinario di scuola secondaria. Il decreto legge 126 2019 aveva infatti autorizzato il Ministero dell'Istruzione ad indire contemporaneamente al concorso ordinario per titoli ed esami anche una procedura straordinaria finalizzata all'assunzione di 24.000 docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. Negli scorsi giorni il Ministero ha illustrato alle organizzazioni sindacali la bozza di bando da cui apprendiamo che coerentemente con le previsioni del decreto 126 2019 è consentita la partecipazione oltre che ai docenti precari anche al personale di ruolo purché siano in possesso dei seguenti requisiti. Intanto un requisito di servizio di aver prestato almeno tre anni di servizio di cui uno nella specifica classe di concorso per cui si partecipa è solo su scuola statale nel periodo ricompreso dall'anno scolastico 2008-2009 fino all'anno scolastico in corso ed avere il possesso del specifico titolo di studio per l'accesso alla classe di concorso per cui si partecipa o del relativo titolo di abilitazione. Per i posti di sostegno è richiesto in possesso naturalmente del titolo di specializzazione sul sostegno. La bozza di bando prevede in particolare l'ammissione con riserva anche di coloro che sono stati ammessi ai corsi di specializzazione sul sostegno purché conseguano il relativo titolo entro il 15 luglio prossimo e nonché coloro che hanno conseguito sia il titolo di accesso alla classe di concorso o il titolo di specializzazione sul sostegno all'estero e naturalmente l'ammissione è subordinata al riconoscimento del titolo da parte del Ministero italiano, riconoscimento che deve essere richiesto entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. La bozza di bando prevede quali prove concorsuali, una prova scritta e una fase di valutazione dei titoli. La prova scritta è basata su 80 quesiti, a risposta multipla che dovranno essere affrontati entro un tempo di 80 minuti e una successiva fase di valutazione dei titoli. Le graduatorie finali distinte per regione verranno utilizzate dal Ministero per l'assunzione di 24.000 docenti nell'arco del prossimo triennio scolastico e servirà anche una graduatoria, una graduatoria parallela ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. Arrivederci.